Il Presidente Bonomi ha tracciato un impegno da parte della comunità, dell'impresa e degli industriali molto forte di coesione e di impegno verso il Paese. Quindi ho rispirato un clima non solo di fiducia ma di corresponsabilità anche nella disponibilità a costruire alleanze, un patto per il Paese nel coinvolgimento sia del rapporto con le istituzioni ma anche con le parti sociali. In realtà la politica c'è e la politica che oggi è al governo con la figura del Presidente Draghi è una politica che si è davvero messa a disposizione per costruire alleanze, costruire percorsi di possibilità, certamente a risposta ad una necessità ma ad un'assunzione di responsabilità di forte coesione. Il volto di un Paese che ritrova alleanza, che comincia a ragionare nella concretezza, a dare risposte ai bisogni dei cittadini ma a disegnare quello che il Presidente Draghi proprio stamattina ha chiamato la possibilità di avere di nuovo il gusto del futuro per il nostro Paese a partire dalle scelte personali a quelle collettive è invece la buona politica. Noi come partito siamo profondamente invece convinti che il Presidente Draghi sia non solo un ottimo Presidente ma il frutto di un percorso politico nel quale ci identifichiamo pienamente e quindi partecipiamo attivamente in questo percorso.